buongiorno oggi preparo una pasta con ricotta di peccola e guanciale inizio tagliando il guanciale inizio tagliando il guanciale tagliando il guanciale tagliando il guanciale inizio tagliando il guanciale la schiaccio bene con una forchetta faccio rosolare il guanciale in un po' di olio il guanciale è pronto metto un po' di olio nella ricotta un po' di parmigiano ed è pronto inizio tagliando un po' di olio il guanciale il guanciale a un po' di grotto inizio tagliando un po' di olio tagliando un po' di colo Grazie a tutti.